Tutututu Tututu Benvenuti ragazzi Benvenuti in questo nuovo e ultimo video del canale Gameloader o quello che era Praticamente cosa è successo? Sapete tutti che il canale si chiamava per un certo periodo Random Game Purtroppo Thunder ha avuto questa idea fantastica di cambiare il nuovo nome del canale Non l'ho fatto Stai zitto Pochi sanno che si possono cambiare il nome del canale massimo tre volte Thunder in questa terza volta ha messo il mio nome e cognome come nome del canale non che mi dia fastidio perchè sinceramente non mi interessa se tutti sanno il mio nome non è che adesso ho paura che vengono ben costoccherato, non è quel problema è solo che non mi andava di avere un canale con il mio nome e cognome sopra ok? Quindi cosa ho deciso di fare? Come potete vedere adesso nel fondo del desktop ho messo ciò che è il nuovo BG del canale nuovo che appunto si chiama proprio Random Game e ho deciso di chiamarlo così perchè il suo canale si chiama Random Thunder dato che comunque sia facciamo cose insieme io e lui quindi ho deciso boh dato che mi piaceva anche il nome Random Game una sorta di Random Crew esatto una Random Crew che potremmo anche farla ma vabbè capita quindi ragazzi io in descrizione allora potete semplicemente copiarvi il link che c'è lì sopra oppure ve lo lascio in descrizione che è molto più semplice e vi porterà direttamente al canale mio nuovo quindi vi invito a tutti quelli che mi seguono e che vogliono diciamo ancora seguirmi ad iscrivervi all'altro canale perchè nell'altro canale naturalmente tratterò video adesso che ho una maggiore esperienza magari un pochino meglio e con un po' più di serietà diciamo che non fa come i primi di questo canale quindi ragazzi vi ringrazio per avermi seguito per questo canale ci vediamo nel questo qua appunto appena creato e che dire bella bella